Ragazzi buon sabato vi ricordo che alle 21 sarò in live su Twitch il link in descrizione a farci un paio di tornei a poker con i soldi veri logicamente vi ricordo che alle 21 in punto startiamo quindi devi essere puntuale e dovete essere anche numerosi invitate amici e parenti anche i genitori potrebbero essere interessati e che dirvi ci vediamo tra pochissimo ore 21 sul mio canale Twitch in descrizione il link detto fatto grande